Le associazioni fondiarie di cui avete già sentito parlare sono uno strumento interessante per risolvere alcuni problemi legati alla gestione dei territori alpini, appenninici e in generale le terre alte. Problemi che derivano dall'abbandono e dal frazionamento fondiario e quindi le associazioni fondiari risolvono bene il problema dell'abbandono e del frazionamento fondiario perché accorpano nuovamente le superfici che a seguito di una scarsa economicità nella loro gestione erano state abbandonate. Quindi le associazioni fondiari sono uno strumento importante per risolvere dei problemi gravi che riguardano i territori montani. Però queste associazioni fondiari attualmente sono costituite da persone che non hanno una specifica competenza nel settore agricolo, forestale, pastorale. Sono persone che sono ancora proprietari, hanno capito l'importanza territoriale delle associazioni fondiarie ma non sono in grado di operare loro direttamente. Quindi l'associazione fondiaria costituita deve individuare un gestore in grado di effettuare poi l'utilizzazione del territorio messogli a disposizione dall'associazione fondiaria. Allora per questo occorre individuare una impresa capace e questo naturalmente è una cosa non facilissima, richiede un presidente dell'associazione fondiaria un po' competente che sappia valutare i diversi ruoli che imprese differenti possano esercitare sull'area. Naturalmente il fatto di fare entrare nella gestione un'impresa non risolve tutti i problemi gestionali delle Alpi perché i problemi gestionali delle Alpi sono molto più grandi che non soltanto il frazionamento fondiario e l'abbandono. Occorre una formazione tecnica e organizzativa più elevata rispetto al passato perché oggi abbiamo delle esigenze superiori quindi abbiamo bisogno di gente che abbia una formazione tecnica migliore. Poi abbiamo bisogno di difendere i prodotti montani perché senza una difesa adeguata dei prodotti montani cade uno dei motivi di sostegno dell'attività montana. I prodotti montani sono di gran valore ma devono essere veramente montani, cioè prodotti con le erbe montane fondamentalmente. Se noi invece accettiamo che arrivino prodotti falsi e ovviamente roviniamo le opportunità economiche di chi invece correttamente produce in montagna. Poi occorre ricordare che l'attività di gestione agricola dei territori montani è un'attività che ha delle ricadute ecosistemiche estremamente importanti. Il paesaggio che è una grandissima risorsa economica per tutta l'attività turistica alpina è collegata a una situazione di gestione corretta del territorio dal punto di vista forestale, agricolo, pastorale e quindi questa azione deve essere in qualche modo compensata. Abbiamo oggi già una forma di compenso per questi servizi ecosistemici ma questa forma di compenso deve essere adeguatamente migliorata perché altrimenti andiamo incontro a delle speculazioni assurde perché non ci sono adeguati controlli sull'effettiva qualità dei servizi ecosistemici svolti. Poi considerando che le associazioni fondiarie spesso non sono delle imprese di grandissima potenzialità produttive eccetera, dobbiamo forse consentire alle associazioni fondiarie di fare degli acquisti che ne facilitano poi il lavoro delle imprese che affittano il territorio dell'associazione fondiaria e cioè fornir loro delle macchine, fornir loro degli strumenti, delle strutture che possono facilitare la loro attività di gestione del territorio fondiario. Poi naturalmente sarebbe interessante che con le ASFO fossero posti nella dovuta attenzione i vantaggi che derivano da differenziare i prodotti in funzione delle risorse utilizzate, questo naturalmente in particolare per il settore produttivo caseario. Noi abbiamo sulle Alpi e sulla Pennino una grande tipologia di risorse, se noi riusissimo a collegare il prodotto caseario alla tipologia di risorsa avremo una differenzazione importante dei prodotti caseari e questo naturalmente andrebbe a vantaggio del prezzo e dell'interesse ad acquistare questi prodotti. E qui varrebbe la pena di ricordare anche l'enorme importanza che noi abbiamo se oltre a utilizzare l'erba noi utilizzassimo le foglie nelle piante arboree. Fare degli arboretti foraggeri caseari molto più resistenti alle siccità e ai problemi delle variazioni climatiche a cui andiamo fatalmente incontro potrebbe rendere decisamente più importanti le associazioni fondiarie nel loro ruolo di gestione del territorio montano.